Ok, siamo live. Buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa enorme enciclopedia in cui ogni giorno mettiamo un nuovo volume e oggi ho un ospite eccezionale. Mi sono innamorato quando ti ho sentito la prima volta al telefono, cioè ho detto no, meravigliosa, meravigliosa davvero. Parleremo di un sacco di cose, peraltro oggi abbiamo anche una scheletta, cosa che di solito non faccio mai, ma oggi abbiamo fatto anche qualche punto da analizzare perché ci sono tante cose da dire e allora insomma ci siamo fatti anche una sorta di scaletta. Sono felicissimo di avere qui con me Francesca Moschini, buongiorno. Buongiorno, ciao, spero che non sia in nessun modo noioso, so che potete in qualche modo dire la vostra, interagire eccetera, quindi se saremo noiosi fermate e noi in qualche modo gireremo per non esserlo più. Quindi cercheremo di movimentare al massimo tutta la scaletta che appunto, come giustamente dice Michael, è fitta e molto, come dire, fornita. Assolutamente, sì, sì. Quando ho visto la scaletta ho pensato, ma insomma questo non è un'intervista, questa è una sorta di workshop praticamente, cioè meravigliosa. Tra l'altro, allora, io sono venuto a conoscenza di te tramite il solito Enzo Dal Verme che mi ha fatto un sacco di nomi incredibili, persone incredibili e devo dire tutte quelle che sono passate qui fino ad adesso mi hanno stupito e tu mi hai già stupito al telefono, quindi sei già passato. Ed è stato meraviglioso, insomma. E lui ti ha venduta come... Ecco, sentiamo. Sì, una fotografa, vabbè, simpaticissima, super empatica, meravigliosa, bla bla bla, e poi ha detto ti ha venduta solo per la fotografia di food, cioè ha detto, guarda, fotografa food superstar ti ha definito, una roba del genere, no? Ha detto, ah, fantastico, bellissimo. Poi sono andato sul tuo sito e alla fine il food è una piccola parte di tutto il lavoro che hai fatto. C'è un motivo, se vuoi lo spiego, spiego? Vai, certo, sì, spiega, 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 spiego il motivo. Allora, diciamo che, e con questo spuntiamo il primo punto della scaletta. Ah, vai, esordi, 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 ecco il primo, così spieghiamo. Allora, diciamo che non ho iniziato svariatissimi anni fa e, come direbbe Enzo, non si dice quanti anni fa, ma tanti, ma senza precisare esattamente quanti, perché non si fa, una signora non dice queste cose. Comunque, un tot di tempo fa, per essere sufficientemente autorevoli, per essere qua con testa a sera, esatto, ho iniziato con l'idea che mi piaceva fotografare, che soprattutto mi piaceranno i viaggi. Cioè, viaggi, il reportaggio dei viaggi era nel mio cuore in assoluto. Naturalmente, non c'era uno spiraglino così per poter entrare in un mondo chiusissimo, dove c'erano superstar della fotografia che lavoravano per meravigliosi giornali. Mi ricordo in particolare uno dell'epoca che era Weekend, dove appunto facevano questi viaggi meravigliosi, eccetera, eccetera. Vabbè, niente, quindi io in pacchina. Siccome però io volevo guadagnarmi da vivere con questa attività, cioè con la fotografia, ho fatto tutto. Prova a immaginare una cosa? L'ho fatta. Allora, la pallavolo di serie B femminile? Fatta. La moda, quella proprio più scalzacane, tremenda, delle pelliccerie di quarta categoria? Fatta. I matrimoni? Fatti. Cioè, qualsiasi roba. Qualsiasi roba, perché io dovevo, cioè la mia principale intenzione era questa. Mi voglio mantenere con la fotografia. Quindi prima devo mantenermi. Dopodiché magari scelgo l'ambito in quale mi voglio ficcare. E quindi questa cosa, se te la racconto, fa ridere, magari fa sorridere qualcuno, ma in realtà è stata il mio salvavita, perché ho fatto un'esperienza molto ampia. Cioè, mi sono ritrovata di fronte a problemi di svariato genere. Poi, sicuramente, ti confesso, lo still life resta uno dei miei amori e comunque ho avuto, come dire, ammirazione sfrenata per gente come Irving Penn, che anche lì ha fatto tante cose, anche il food, per esempio, come sappiamo. Però, appunto, diciamo che stranamente lo still life poi ha avuto anche bisogno di tutta questa serie di piccole esperienze di formazione che mi è capitato, ho dovuto fare o mi sono buttata a fare. Quindi diciamo che per un periodo di inizio mi sono preoccupata di riempire il frigorifero. Per cui, per riempire il frigorifero abbiamo fatto tutto, abbiamo escluso la prostituzione, abbiamo fatto un po' di tutto. Ora l'abbiamo esclusa. Mentre invece, nell'altro caso, ci siamo applicati e abbiamo capito tante cose, abbiamo capito. Non siamo tagliati particolarmente per fare la moda, non siamo tagliati particolarmente, non so, ho fatto tanta foto industriale, sì, bello, interessante, però non ho fatto cose particolarmente significative. E via così. Fino a quando, in realtà, ho cominciato a lavorare con qualche ritratto e ti direi che ho iniziato a fare le foto al Festival di Venezia, anche lì non dico quanti anni fa, e facevo le foto degli attori che arrivavano, eccetera. Ero unica donna insieme a un'altra fotografa ed ero molto ben voluta, un po' mascotta, avevo poco più di vent'anni e quindi i cameraman di Rai 1, Rai 2, Rai 3 che facevano le interviste mi tiravano dentro, mi spingevano avanti, eccetera. E quindi sono riuscita a fare delle foto un po' perché avevo questo sostegno dei colleghi. Queste foto le ho vendute a Centocose, altro giornale storico dell'epoca, Mondadori. Ho incontrato questo art director che ho amato tantissimo, che era Renzo Castiglioni. Renzo Castiglioni vide queste foto e disse finalmente mi sono arrivate sul tavolo delle foto che non sono le solite foto di agenzia e da lì ho cominciato a collaborare con loro. E come ti dicevo con lo still life, quindi oggetti, quindi oggetti anche legati alla moda, ma oggetti di vario tipo. Avevo una rubrica, lavoravo con questa redatrice che poi è diventata direttore di, non di Centocose, ma di casa facile, che era Giuse Silighini, che è una grande professionista e amica. E quindi abbiamo lavorato per un lungo periodo per Centocose dove io facevo effettivamente anche tanti oggetti. Quindi tolta, riassumendo brevemente, tolto un momento in cui abbiamo fatto un po' tutto, poi abbiamo inserito i ritratti, dai ritratti lo still life e per un periodo ho fatto queste due cose. Scusami, c'è il microfono che ogni tanto sfrega contro la camicia, presumo. Ok, perfetto. Benissimo, alla grande. Come è mio, non è mio questo affare, ma è di mio figlio, mi ha tanto raccomandato di non toccare questa cosa. Non devo toccarla, quindi forse hai ragione, non va toccata, e me l'hai detto anche tu, quindi lo stottengo così. Va bene, allora, quindi dicevamo... Chi sei arrivata in redazione perché hai iniziato a fare lo still life. Ho fatto lo still life, quindi facevo un po' di still life, mi mandavano un po' fuori, facevo qualche piccolo reportagino, che ne so, per esempio mi ricordo cose tipo... le signorine A, B e C, che cos'hanno nell'armadio? Allora andavi a casa delle signorine A, B e C, gli fate raffavi l'armadio, fate raffavi loro, ripeto, avevo vent'anni, e facevamo queste cose qua. Ci siamo divertiti tantissimo, è stato molto bello. Però, ripeto, io dentro di me avevo il viaggio nella mente, cioè il viaggio per me era il mio punto d'arrivo, sempre weekend là, sempre io in panchina, e va bene. Quindi cosa succedeva? Succedeva che, come tutti, le poche volte che potevo uscire di casa e andare in vacanza, piuttosto che fare un viaggio, facevo un sacco di foto, senza commissione, cioè le facevo così, per me, perché mi piaceva. E mi ero fatto un piccolo album, proprio letteralmente un album, con tutte queste fotine, perché io lavoravo in negativo colore, facevo i provini, facevo questi provini 4,5-6, più o meno, e li mettevo in questo albumino con tutte queste figurine. Vabbè, niente, poi intanto me le guardavo, diciamo che bello, è sempre in panchina con l'album, e va bene. Fino a quando, un famoso giornale dell'epoca, che si chiama, poi arriviamo al Food, eh? Cioè, al Food in Europe, quasi... Sono voi che dico, ma adesso è dietro l'angolo, me lo sento che è dietro l'angolo. Sì, il Food arriva. Arriva, arriva, ok. All'epoca c'era appunto questo giornale, che si chiamava Gulliver, che era un giornale di viaggio iper tradizionale, niente di che, fecero un restyling abbastanza forte, con un impaginato, con delle doppie pagine particolari di apertura, formate da due singole, con un dettaglio e una foto, invece, magari più di ambientazione sulla destra, insomma, una cosa abbastanza rivoluzionaria. Allora io gli ho detto, va, io devo andare. Basta panchina. Vado lì. Sono andata lì, appunto, stiamo parlando del 2000, questo posso dire. Vado lì e vorrei parlare con la foto editor, che era questa meravigliosa donnina che è Vivetta Rozza, che mi ricevette e io con l'album, vado con il mio album, con le foto delle vacanze, perché queste erano le mie foto delle vacanze. Allora, vado, lei prende questo album, gira, poi fa, scusa, devo andare via un attimo. Vado, va bene. Va, va, va dal direttore, va dal direttore, questo l'ho saputo dopo, perché poi il direttore è diventato un mio carissimo amico, Sandro Giglioli, va dal direttore e gli dice una roba tipo, non so, invento, guarda che c'ho di là del materiale scottante. Lui dice, in che senso? Roba buona. Allora, torna da me e in 4-4-8 mi hanno mandato a fare un viaggio e tu dirai cosa c'entra il food? C'entra perché era un food and travel. Cioè io sono andata per loro a fare un viaggio in Svezia, che ovviamente mi ricordo fotogramma per fotogramma, con questo taglio, cioè doveva essere un food and travel. Quindi dovevo raccontare la città attraverso un itinerario gastronomico attraverso le prelibatezze o comunque una chiave di lettura food che adesso si fa, tutti voi lo sapete come vengono fatti questi servizi, all'epoca non erano, non venivano fatti in Italia, erano solo più che altro appannaggio di riviste estere. Niente, praticamente ho fatto una sostituzione, questo poi l'ho saputo dopo, il fotografo che doveva partire per quel viaggio aveva avuto non mi ricordo più quale problema e quindi io sono capitata al posto giusto, al momento giusto e mi hanno infilato sull'aereo e sono andata da lì, ho lavorato con loro tantissimo, ne ho fatti tantissimo e ho iniziato a fare il food in questo modo, quindi approcciandolo in modo narrativo, non diciamo come still life puro, però avendo fatto tanto still life, ed è il motivo per cui ho raccontato la storia prima, in realtà mettevo in una prospettiva quasi da studio nel ritrarre il food mentre ero in viaggio e quindi ho creato questa sorta di miscellanea tra la narrazione, tu cur un po' così, del viaggio, il food però trattato in modo un po' più potrei dirti rigoroso, ecco e quindi questo ha funzionato, è piaciuto perlomeno adesso, funzionato non lo so però è piaciuto e quindi ho conosciuto tanti chef, ho girato veramente mezzo mondo con questo tipo di passpartout, uno che era appunto fare i ritratti, quindi mi era servito essere stata in prima linea a Venezia e avevo acquisito un po' di quello, poi e poi vabbè c'era una passione per il cibo, io amo cucinare, amo mangiare, amo c'è anche se sei tornato a bio, eh sì sì, per cui quella roba lì vabbè era come dire spuntata fuori quasi inaspettatamente, cioè non ho sempre sognato di fare foto di food, però mi sono sempre piaciute, le foto le strappavo dai giornali, mi tenevo la ricetta ma mi piaceva anche la foto, per cui se la foto era brutta, la ricetta come non mi piaceva tanto, quindi era esserci l'abbinamento tra le due cose e niente, quindi così ha funzionato, hai capito? E al cibo siamo arrivati così. Tra l'altro prima mi stavo guardando il tuo sito e c'è, te lo dicevo no, il reparto, cioè la sezione viaggi e ho visto che sei andato a Chamai, che è tipo una delle mete in cui sarei voluto andare quest'anno ma poi delirio non sono andato. Ecco dove andare io, per cui va bene. Ok, va bene, perfetto. E quindi mi sono guardato le foto e ho visto che, cioè è super interessante perché, ok, ovviamente ci sono un po' le foto di contesto eccetera, ma poi alla fine tu la racconti attraverso il cibo, la cucina, è interessante comunque come approccio. Mi piace molto perché è espressione, comunque senza fare retorica, il cibo è espressione, grande espressione di un popolo, di un paese, di una cultura e poi perché è qui, spunto, spunto un'altra cosa, spunto, macrocosmo, microcosmo. Ah, sì, bellissimo, l'ho visto, beh, bellissimo. Allora, a me funziona visivamente moltissimo lavorare attraverso il concetto di dialogo, quindi mi piace accostare le foto a due a due, qualche volta tre, ma quello ne parliamo dopo. Allora, perché? Perché si crea un ritmo, in questo caso è proprio dittico e quindi è un ritmo, diciamo, a due, quindi è un dialogo, una danza, è un tango, è un waltzer eccetera, dove le due immagini si nutrono e si raccontano vicendevolmente. Una aiuta l'altra, l'altra aiuta l'una. Perché microcosmo, macrocosmo? Perché quando mi è capitato di fare lezioni o di spiegare un po' anche agli studenti questa, anche se non faccio la docente primariamente, questo concetto, è quello di dire, benissimo, allora ci serve un contesto per far capire agli altri dove siamo. Quindi tante volte ho detto, non vergogniamoci di fotografare la Torre Eiffel, se l'abbiamo anche vista fotografata miliardi di volte, perché è diventata talmente un'icona che probabilmente quella fotografata, pulita, ortogonale, con una bella luce, ci funziona da contesto. Di fianco però devo avere qualche cosa che mi aiuta a strammatizzare, nutrire, usiamo anche un termine non a caso, contrastare, perché il contesto venga arricchito da un dettaglio, quindi microcosmo, quindi macrocosmo, perché stiamo lontani, raccontiamo un luogo, raccontiamo una situazione, un luogo può essere anche una stanza, può essere un nuovo ristorante, può essere un'abitazione, può essere un giardino, e di fianco però entriamo nel microcosmo, di solito appunto è un cibo raccontato, che dialoga con la foto di fianco per colore, per forma, e per una narrazione di luogo piccolo dove succedono delle cose interessantissime. Proviamo a pensare per un istante agli chef e a questa parola che è divenuta di moda negli ultimi dieci anni, che è impiattare, hai sentita prima impiattare, impiattare invece è costruire un piccolo mondo, cioè tu le cose le metti in un certo modo, per vari motivi, anche quello estetico certamente, ma perché costruisci questo piccolo mondo, questo piccolo orto nel piatto, questa piccola costruzione, questa piccola piantina, piantina nel senso architettonico, bravo, questa piccola mappatura del piatto, dove conduci il tuo interlocutore dove vuoi tu, visivamente e non solo. Quando sono stata a Girona, dove c'è uno dei più straordinari chef, anzi trittico, sono tre fratelli, uno è ai vini, uno è alla cucina generale, uno è alla pasticceria, sono i fratelli Rocca, i fratelli Rocca hanno credo tre stelle se non sbaglio, e io lì sempre giovane e virgulto finisco nel loro ristorante e poi gentilmente mi chiedono di restare a cena, e io gentilmente ringrazio. Eh beh, così pare. Ma no, guarda, dove andrò in pizzeria. Che bella cosa. Allora, mi ricorderò per sempre questa esperienza straordinaria che ho fatto con il dessert di quest'uomo, per me è bellissimo, anche se non è bello, ma è proprio bello lui, bello nel pensiero, bello nell'idea, bello nel modo. Allora arriva un piattino rettangolare, stiamo parlando, ripeto, di vent'anni fa, arriva un piattino rettangolare con dentro tante piccole gocce di tutti i colori, bianco, verde, verde più intenso, rosa, rosa più intenso, geranio, giallo, arancio, eccetera, e tutte queste goccioline erano delle creme, ma erano dei sapori. Quindi tu col tuo cucchiaio attraversavi questo tappeto di goccioline e assaggiavi. Il tuo dessert era questa casuale composizione di tutti questi sapori. Perché ve lo dico? Perché il tuo interlocutore dall'altra parte riceveva lo stesso dessert, ma non aveva nel momento in cui anche lui prendeva il suo cucchiaino lo stesso sapore che avevi tu. Quindi tu guardavi l'interlocutore, ipotetico perché non ce l'avevi in quel momento, ipotetico, e gli dicevi Madonna che buono, senti questa cosa meravigliosa? E l'altro diceva È stupendo, ma non stavo assaggiando la stessa cosa tua, malgrado avesse lo stesso piatto. E ho trovato questa cosa meravigliosa. È interessante. È meravigliosa. E prova a pensare quanto può essere difficile raccontarlo visivamente. Cioè tu puoi raccontare solo tutte queste goccioline. Però se pensi che questa piccola palette, questo piccolo vassoio, ti può riservare tutta questa emozione, Buone, questa sorpresa, bravo, questa esperienza, ti senti anche impotente nel raccontarla, no? Cioè è difficile da raccontare questa cosa. Allora questo mi fa pensare che se tu hai una foto di fianco, questa foto di fianco ti può aiutare nella lettura di una dell'altra, se una delle due ha necessità di essere aiutata. Non so se sono riuscita a spiegarlo. No, no, lo sei stata. Ma guarda, capisco benissimo. In realtà il concetto del macrocosmo e microcosmo è interessantissimo. Però mi ha fatto venire in mente l'album di ANFM. ANFM è l'Associazione Nazionale di Fotografi e Matrimonialisti. Di Nunzio Bruno. Che praticamente ha fatto quest'album in cui le foto singole erano belle. Ma la cosa spaziale di quell'album era il dialogo che una foto aveva rispetto all'altra. E peraltro lui giocava molto con l'idea di, in qualche modo, ridisegnare il contenuto di una foto attraverso il contenuto dell'altra. Cioè metteva due situazioni che in realtà magari non erano vicine, ma nel suo immaginario lo erano, facendo comunicare magari, non so, con lo sguardo di una persona, lo sguardo dell'altra, e reinventava storie, no? E quindi raccontava la sua storia. Ed è stato meraviglioso, bellissimo davvero. Lo è, lo è, perché riesci in qualche modo, in questo modo, a mettere la tua cifra su una cosa che è solo esclusivamente tua. Cioè il fatto che tu accosti quattro mezze arance e due pompel, mi sto inventando, in realtà non tanto perché è una foto che ho fatto che ho in mente, con di fianco una croce di Malta. Allora, apparentemente non ha dialogo. Ci sta perché questa croce di Malta scolpita in questo muro siciliano aveva come dei piccoli licheni gialli e quindi si legava molto bene alla texture invece degli agrumi. Ma in realtà c'è sotto il fatto che furono i cavalieri di Malta a portare le arance in Sicilia. Capisci? Per cui non è importante che uno la veda questa cosa, perché per me quello che è importante è che delle immagini abbiano letture a tutti i livelli. Cioè tu devi poter comunicare, scusa, faccio una cosa un pochino, come posso dire, anticomunista, diciamo, o antidemocratica, nel senso che le persone non hanno tutto lo stesso tipo di estrazione culturale o lo stesso tipo di strumenti per la decodifica delle immagini. Ci sono persone più semplici e persone, diciamo, più colte, più articolate, più abituate, diciamo, no? Però tu devi poter fare una cosa che piaccia a tutte e due le persone. Anzi, quindi non è vero che è antidemocratica, è molto democratica, molto democratica. Quindi tu devi poter fare un ritratto e devi emozionare sia le persone che vedono solo il ritratto, sia quelle che invece ci vedono dentro l'immagine di un libro che hanno letto, il richiamo a un grande pittore, un passaggio di un romanzo importante, capisci? E quindi vanno a nutrire il loro immaginario, già ricco delle cose che sanno, e quindi diventa una specie di volano che arricchisce una cosa che loro hanno già nella mente. D'accordissimo. Bellissimo, peraltro, bellissimo. Mi viene in mente, qualche mese fa, andai a vedere a Milano la mostra di Picasso, e allora sai, ci sono tutte le cose, allora ti guardi tutte le cose, ti ascolti, la doghida, poi giro l'angolo e c'era questo foglio di carta con due sagome disegnate, sai, tipo l'uomo e la donna, proprio a livello, sagome, così, tac, tac, no? E io guardavo e dicevo ho una nipotina piccolissima che ha un anno e pensavo è simile a quello che potrebbe fare lei, no? E poi riflettevo sul fatto e mi dicevo forse mi manca, cioè, forse devo ancora, come dire, acquisire una visione che mi porti a un livello superiore, no? Ed è bello questa cosa degli strati perché c'è sempre, anche nelle immagini, noi dovremmo riuscire a ricrearla ma è difficilissimo poi, no? Cioè, non è così scontato. Creare appunto, come dicevi tu, dei livelli di connessione, no? Di modo che una persona riesca a leggere un'immagine ma poi altre riescono a leggerci anche quello che c'è sotto dell'immagine. Esatto, per me questo è fondamentale, questo è fondamentale. Tanti anni fa, esattamente l'anno successivo alla caduta delle torri, io ho fatto una mostra in questo museo che non c'è più che si chiamava Musei di Porta Romana, Milano, su le tre religioni monoteiste. L'ambito, diciamo, visivo della religione è un ambito che a me interessa da sempre tantissimo. E questa mostra che era il risultato di 17 viaggi in altrettanti paesi del mondo dove io cercavo di farvi allogare questi segni anche assolutamente casuali, totalmente casuali. Non c'è in scaletta questo, però lo racconto lo stesso. Vabbè, io non lo dico a nessuno. No, esatto. No, non l'avevo messo nella scaletta. Comunque, quindi mi ero concentrata sulle tre religioni del libro, quindi gli ebrei, i cristiani e l'islam che hanno alcuni, anzi, molti punti di raccordo tra di loro, molte sicuramente distonie, molte lontananze ma anche molte similitudini. Questo non mi sto dimenticando perché ve l'ho detto. Lo dico perché alcune donne che ho fotografato, ci sono due ritratti in particolare, due donne che ho fotografato in Siria in un accampamento nomade nel deserto. Una donna un po' più anziana che per me automaticamente era diventata una madonna con un velo non necessariamente con quell'immagine da donna segregata dal burka, un velo proprio da madonna e invece una donna più giovane, un po' più leggermente più tormentata che per me era una maddalena. Le due donne erano evidentemente non di fede cristiana ma bensì di chiara estrazione o comunque vicine al mondo musulmano non gliel'ho chiesto ma è evidente però questa sovrapposizione tra le due cose le rendeva magiche perché erano due cose nello stesso momento e potevano parlare con due mondi completamente diversi nello stesso tempo. Detto questo però erano i ritratti di due donne quindi non c'era nulla di più di quello una donna un po' più anziana una donna un po' più giovane fine però poi a voler guardare c'erano stratificazioni di altro tipo poi quella mostra che contava 70 immagini fu didascalizzata in un modo straordinario da una coppia di giornalisti esperti di religioni i miei amici e meravigliosi che sono Cristiana Ceci e Marco Restelli che hanno dato una motivazione diciamo storico religiosa ad ognuna di queste immagini ma spesso queste immagini non avevano nulla di questo nel momento in cui sono state colte segue il filo non c'era necessariamente la foto della stella di David e quindi uno dice fotografata a Berlino nel tal posto nella tal sinagoga magari era tutt'altra cosa che però rimandava a quel mondo rimandava a quel linguaggio senza che necessariamente fosse stata scattata pensando a quello perché la cosa divertente no interessante è che spesso sono state fatte prima ancora di essere decodificate un po' come le foto dei viaggi delle vacanze di cui dicevo prima no? Tante volte tu fai una foto e poi dopo scopri dopo che hai fotografato qualcosa di particolare interessante questo è un tema molto interessante infatti sì scusa fammi finire tu sei la discriminazione l'ago della bilancia in un certo senso siccome l'hai visto tu l'hai guardato tu l'hai colto tu c'è un motivo legato al tuo mondo interiore al tuo mondo di segni al tuo mondo di conoscenze di esperienze capisci per cui non può che essere quello che il tuo e quindi c'è un motivo per cui tu hai scelto quell'immagine e fare click in quell'istante e non un altro basta è interessantissimo sì sì assolutamente interessante no tra l'altro è interessante anche quando come dire proprio come nelle foto che citavo prima nel nel dittico no? cioè prendono significato anche a posteriori oppure si possano risignificare a posteriori no? è interessantissimo questo ed è bello anche come altri poi ci vedano altre cose cioè altri potrebbero dare significati completamente opposti no? e quindi anche qui tante chiavi di lettura bellissimo è super interessante più ce ne sono meglio è altra cosa che mi viene in mente anche questa non in scaletta l'altro giorno ho guardato un tuo video che riguardava la diciamo il test di questa macchina fotografica che è la Rolley no? ok e tu vai in giro con un altro ragazzo a fare queste foto è una cosa che mi piace sempre da pazzi mi piace da morire e quando tu vedi due che fanno qualcosa un film una foto eccetera e poi vedi la foto è bellissimo io lo trovo meraviglioso non mi stanca mai questa cosa anche io perché è sempre una rivelazione non è mai quello che tu ti immagini perché non l'hai fatta tu l'ha fatto un altro e per quanto tu da fuori vedi al backstage quello lì fa sposta guardami in macchina guarda di lì fai qua eccetera eccetera poi plaf ti fa vedere la foto e tu dici no ma è bellissima oppure ma no è bruttissima ma come perché non l'hai fatta tu è lo sguardo di un altro ed è quella la cosa interessante che non sei tu è un altro che ti fa vedere come l'ha fatta lui bellissimo guarda ti dico questo tra l'altro proprio citandoti quel video proprio all'inizio eravamo in giro io e Pasquale a un certo punto lui si ferma e ci sono questi due signori che stanno scaricando del tipo dei materassi non so cosa e allora lui chiede a questi signori di fare una foto e insomma gli fa questo scatto io ero lì con lui e la cosa bella poi di quella giornata è che abbiamo scattato con la roll e quindi ovviamente di conseguenza le foto non le abbiamo viste subito le abbiamo viste dopo quando abbiamo sviluppato il rullino quando poi io sono andato a vedere quella foto cioè giuro era proprio diametralmente opposta rispetto a come l'avevo vista io e anche mentre montavo il video ho detto ma come ha fatto a far cioè come l'ha vista con quell'inquadratura lì ed è guarda hai citato un punto bellissimo è davvero incredibilmente interessante questo sì lo è bellissimo lo è perché poi rivela molto della persona il suo modo di scattare e di vedere sì ma soprattutto è sempre un'epifania perché non ti sembra che questo sia possibile e invece è possibile è assolutamente diverso anche se ha le stesse condizioni che hai tu partite alla pari tutte quelle robe lì è per questo che ci sono questi contest che hanno tanta tanta tanto seguito no? perché ognuno dentro una stanza fa cose diverse bellissimo bellissimo tra l'altro macrocosmo eccetera eccetera no tra l'altro questa roba di video è proprio interessante non avevo mai riflettuto su questo ma hai aggiunto un livello vedi di di bene bene bellissimo e allora io non so dobbiamo andare veramente con la scaletta perché mi sono perso la scaletta no assolutamente la scaletta io sono qua perché se dovesse avere qualche tipo pagina bianca improvvisamente allora andrò a guardare ma possiamo parlare di quello che vogliamo poi insomma a un certo punto tu dirai il tempo è scaduto sì tra tre ore lo dico no no però in scaletta quando ho letto questa cosa ero incuriosito e quindi volevo chiedertelo tu hai scritto luce naturale e luce artificiale e ti spiego perché sono incuriosito no perché quando sono andato a vedere le tue foto sul sito ho visto tante tue soprattutto quelle di food mi paiono perlomeno la maggior parte adesso si paiono vero mi paiono visto visto come mi sono salvato perché parto sempre capito come ti fa il luce naturale invece no eh lo sapevo lo sapevo ecco allora diciamo che posso parlo io vai vai certo allora in realtà proprio questa cosa luce naturale luce artificiale l'ho messa per questo ok allora siccome ho scoperto che alle persone piace come dire sapere come fai le cose allora io ho detto boh forse nella scaletta può essere interessante anche dirgli come facciano le cose giusto giusto a me è sempre interessante ok allora spieghiamo soprattutto nel food perché nei retratti non sempre così però soprattutto nel food a me piace questo approccio diciamo i miei maestri sono stati in mondo anglosassone in parte la Francia ma soprattutto mondo anglosassone nell'Australia che sono due aree geografiche dove i fotografi lavorano splendidamente soprattutto per il mio gusto splendidamente come piace a me fanno tantissimo food and travel come si diceva prima e lavorano tantissimo con la luce naturale allora la luce naturale è meravigliosa bellissima la migliore che c'è e quant'altro però ha un sacco di problemi cioè voglio dire se vai a fare un reportage all'iningrado a febbraio fischi c'è un'ora di luce non è che puoi stare lì un mese e mezzo per fare un reportage dei due sono due chef adesso famosi c'erano poi in effetti no torna difficile torna difficile poi dipende la giornata com'è come non è entra la luce dalla finestra diretta non diretta insomma ci sono un sacco di cose che però se uno sa governare bene il risultato è meraviglioso siccome però appunto bisogna comunque trovare una strada alternativa e che soprattutto per usare un'espressione che ti deve parare le spalle diciamo ok bisogna trovare un modo perché questo avvenga allora abbiamo dico abbiamo perché io ho un socio da tanti anni con cui lavoro insieme da tempo e lui diciamo è anche un po' più la mia parte tecnica diciamo così abbiamo cercato e sperimentato un modo che potesse in qualche modo rendersi o sostitutivo o anche non necessariamente sostitutivo ma diciamo anche come dire coordinato con la luce naturale che cosa vuol dire? vuol dire che o si può lavorare in open flash cosa vuol dire in open flash? vuol dire che lavori con un tempo di di scatto di apertura dell'otturatore superiore al sincro della macchina che insomma nel mio caso è 160 250 cosa del genere se stai al di sotto vuol dire che la macchina sulla ma sul piano pellicola no la fotografia il sensore ecco bravo mi sfuggiva il sensore cattura sia la luce artificiale che tu le hai messo lì che quella dell'ambiente quindi fa una luce mista che è una delle mie più amate ok ecco allora e anche delle più difficili a me non sembra difficile no sì per te magari no però io vi spiego come fare voi lo fate ok allora prima regola prima regola allora la luce non deve essere diretta questo è quello che faccio io non è che vale per sempre per tutti secoli dei secoli per me la luce non deve essere diretta quindi il flash deve andare a sbattere contro un bianco muro angolo di un muro pannello polistirolo quello che volete voi va e poi torna quindi fa un percorso doppio di quello che farebbe essendo diretta allora questo che vantaggio ti dà ti dà il vantaggio di essere più morbida quindi non ti darà ombre secche non ti darà anche perché quando lavori in luce naturale comunque non lavori almeno io non lavoro col sole diretto che mi fa l'ombra disegnata con il penarello esatto c'è chi lo fa c'è anche una tendenza un po' ultimamente su queste robe qua però diciamo che invece a me piace sempre la luce un po' di rimando la luce appunto che di risposta si dice ecco quindi il flash usiamolo di risposta nello stesso modo quindi va a sbattere contro una superficie ma più lontana è la luce più interessante sarà e voi direte perché? perché il sole è vicino? il sole non è vicino il sole è molto 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 lontano e perché la luce è molto 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 bella? perché lui è tanto 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 lontano e quindi la nostra luce ha il massimo quando può essere posizionata lontana con una potenza ovviamente che lo permetta può buttarsi contro una superficie riflettente e tornare più gioco di spazio rispetto al soggetto lui dice sai devo solo fare due panini avrò bisogno di una stanzetta non è vero perché la luce poi in quella stanzetta gira un po' come vuole lei non come vuoi tu e più spazio ha invece più la luce avrà la possibilità di fare un certo tipo di percorso ed arrivare al soggetto in modo più avvolgente più morbido eccetera eccetera poi chiaramente se la metti un po' più a destra un po' più a sinistra un po' più giù cambia e quindi fai la prova luci non a caso non è che sai sempre dove metterla devi un po' provare eccetera eccetera certo questo è utile oppure altra cosa che puoi fare fai sempre la luce di rimando non basta ti fai un box intorno alla luce gli metti un una carta ingegnere una carta da lucido in modo tale che entri questo finestrone sempre morbido che non vuol dire che la foto viene piatta viene piatta per niente poi voi ben sapete che con l'avvento di queste diabolerie elettroniche come si dice non lo so non abbiamo più le pellicole e forse lì potevamo avere il problema ma adesso invece se i RAW sono diciamo piatti diciamo in qualche modo favoriscono l'intervento di sviluppo che poi farai tu per cui è meglio se hanno una certa non dico uniformità ma dico anche un po' uniformità quindi questa luce qui poi tu la vai un pochino anche te la vai un pochino a giocare dopo quindi giocare di rimbalzo sì allora esatto riassumendo non ci interessa ci piace molto la luce naturale ci piace così tanto che la vogliamo un po' imitare la vogliamo imitare però in modo come dire di ritorno facendo in modo che stia lontana che faccia questo percorso e torni a noi in modo meno aggressivo più gentile eccetera eccetera se necessario si filtra ulteriormente e addirittura si può usare l'open flash cioè usare le due luci insieme nel mio caso io ho una finestra noi siamo con uno studio al piano appena rialzato per cui ho la possibilità di mettere un flash fuori dalla finestra e uso le due luci uso la luce di rimbalzo più la luce diciamo che entra da queste finestre in modo tale da avere anche costanza perché il grosso vantaggio è che il sole che si muove è quello che fa tutti i giorni non è che entra dalla finestra nello stesso modo la mattina è più in ombra il pomeriggio o meno certo oggi fai post produzione le metti tutte a posto sì e no e quindi se tu invece hai un flash direzionato in un certo modo quella costante ti fa fare un servizio di otto foto sei foto quante ne devi fare quel giorno un giorno non le fai ma insomma ne fai sei cinque le fai con una certa diciamo costanza che ti permette anche quando giri le pagine del giornale di vedere una cosa che ti sembra quasi contemporanea che ha unità di tempo diciamo anche se magari tu hai scattato in due giorni però se scatti in due giorni perché un giorno c'hai il pollo arroso che deve cuocere c'hai la cheesecake che deve cucinare fai due foto e il giorno dopo c'è una rivoluzione non c'è più la giornata di sole ma c'è pioggia e tu cosa fai? cosa fai? c'hai le foto grigie un giorno le foto calde il giorno dopo è interessante questo anche perché il problema del food poi non è solo il fotografo ma è anche la cucina c'è che poi con le robe lì van cucinate cotte preparate poi adesso io non so ho fatto qualcosina perché ho ho lavorato all'inizio non l'ho mai detta questa cosa all'inizissimo della mia carriera no uno dei primissimi lavori che ho fatto è stato proprio di food perché sono andato da un ragazzo che conoscevo che era bravissimo ed è ancora bravissimo uno chef si chiama Davide Maffioli di Vero Restaurant che è un ristorante qua di Varese ed è l'unica forchetta Michelin italiana vegan almeno l'anno scorso lo era lo è anche quest'anno ma quest'anno ce ne sono mi pare anche un altro adesso non so comunque mangiavo benissimo da lui e allora un giorno sono andato lì gli ho detto senti io ho iniziato a fare il fotografo se vuoi prova a farti le foto dei piatti così io sperimento poi non si sa mai e da lì sono diventato il suo fotografo ufficiale poi per tanti altri così e quindi all'inizio ho fatto questa roba che mi piaceva un sacco poi in realtà ho fatto altro però lui è ancora mio cliente spesso vado da lui a lavorare ed è interessante il problema appunto è questo no che poi non è solo la fotografia il problema il problema è che il piatto va fatto va impiattato poi alcuni puoi farli caldi altri andrebbero fatti più freddi poi con alcuni ci sono dei magheggi che puoi fare perché magari un bel cibo da scattare non è un buon cibo da mangiare no cioè tipo vedevo alcuni tipo che mettono non so se tu lo fai però tipo non so alcuni mettono non lo so il cartoncino sotto al panino per rialzarlo sì lo fai lo fai sul panino un sacco di roba sul panino dimmi un po' di trick di questa roba qui dai un paio divertenti allora qua ci vorrebbe la mia amica Maria Greco che fa la food stylist che ha fatto anche dei corsi ha insegnato e in realtà sul panino appunto c'è un trick che è faboloso che è necessario se devi fare dei panini molto alti se devi fare un panino molto alto il panino molto alto non sta lassù in piedi da solo quindi probabilmente ti è necessario creare una specie di pettine distanziato una specie di libreria diciamo dove infili tutti i vari piani la varia farcitura che stia dietro al panino cioè tu prepari questa sorta di di punto di libreria da dietro di ripiani e poi fotografi il panino da davanti e questo rimane tutto dritto non schiaccia le cose l'insalata rimane tutta bella soffice fa le onde devi fargli devi dargli una specie di distanziamento tra le parti perché se no questo si schiaccia cade eccetera eccetera allora ti direi che io lavoro molto con l'editoria nell'editoria facciamo tante cose vere infatti pranziamo e spesso ci portiamo via la schiscia delle cose che cuciniamo not bad però quindi no per niente quindi le ragazze che vivono con me di solito una delle frasi tipiche della fine della giornata è guarda che lì manca sale guarda che manca un po' di cottura su quella ognuno si porta via la sua cosa sì perché spreco zero mi sta sulle scatole in un modo che non puoi capire cioè non cerchiamo di non sprecare niente e quando fanno la spesa poi cerchiamo sia di mangiare a pranzo quello che avanza sia di riutilizzarlo magari il giorno dopo quindi spesso come ti dicevo cose vere in pubblicità meno soprattutto perché le logiche della pubblicità sono totalmente diverse soprattutto se fai video come capita anche a me la roba non non la puoi più mangiare cioè viene veramente ah ecco una cosa che ti posso dire che si fa spessissimo quelle immagini super tasty quando vedi la crema che scende che si mescola col cioccolato e tu da lì cominci a dire che buono che salivi così esatto quelle vernice nella grande maggioranza dei casi sì ma io ho visto tipo ne ho visti un po' di sta roba perché poi sono carinissimi vedere il retroscena tipo sapevo che anche il creme caramel a posto di quello usano tipo l'olio motore sì perché perché se no soprattutto in video infatti in cui comunque devi far vedere poi deve stare lì un po' assorbe meno per esempio sui pancake e quindi con l'olio motore riesci ad avere una diciamo che questo capita perché i tempi di attesa della pubblicità e dei video sono decisamente ben più lunghi di quelli dell'editoria quindi nell'editoria riesci a scattare abbastanza contestualmente cioè ti prepari un po' tutto e poi scatti e quindi diciamo la sofferenza del cibo è molto limitata ma se invece ti capita di fare cose dove hai agenzia cliente marketing dal primo a quello più cliente eccetera eccetera spesso si fanno tutti dei ragionamenti così che il tuo panino appunto implode quindi devi avere otto panini da sostituire per poterlo continuare a tenere in vita sto povero panino sì ecco lì purtroppo un po' di spreco c'è mi spiace dirlo confesso Adriana dice mi avete rovinato tutto adesso che so che vernice poverina cioè infatti allora basta non vi dico più niente no è dato basta non ne diciamo più tra l'altro Massimo dice Francesca sto ascoltando con l'espressione suppongo da ebite totale sei meravigliosa ma che carino Massimo Massimo ok e quindi poi come come si è trasformato nel insomma nella tua passione principale il food perché attraverso i tuoi viaggi buona domanda allora ho detto buona domanda allora sai quando ti dicono grazie per avermi fatto questa domanda non so perché però si dice così si dice così grazie anche io voglio question va bene allora quindi la risposta è diciamo che io ho avuto la fortuna come spesso accade nella vita in realtà di trovarmi un po' nel momento in cui tutta questa notorietà del cibo tutta questa onda di interesse intorno agli chef eccetera ha cominciato a crescere perché come ti dicevo ho cominciato nel 2000 e più o meno da lì questa sorta di parabola che forse è un pochino discendente adesso ma neanche così tanto era nella sua massima cioè nella sua crescita massima arrivata dopo e quindi un po' perché ti dico l'argomento mi interessava un po' perché non c'era così tanta concorrenza in quel momento una vera specializzazione che non fosse nella 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 pubblicità perché nella pubblicità negli anni 80 c'erano anche fotografi che erano in grado di fare i bicchieri di birra come nessuno dove la schiuma era la cosa da barba dove le bollicine si metteva dentro non so bene che cosa tipo la soda cioè sì ho bicarbonato bravo il bicarbonato c'erano colleghi veramente straordinari cioè tu cercavi quel professionista che aveva un know-how straordinario in bottiglie goccioline sulle bottiglie tutte le goccioline di glicerina per fare tutta la bottiglia fresca bla bla poi versavi tutta la schiuma schiuma da barba fai un giorno una foto sì sì ecco poi in realtà ti dico le cose sono un po' cambiate e c'è stata un po' anche questa necessità di raccontare per cui torniamo un po' a quello che dicevamo prima il microcosmo il macrocosmo il dittico il dialogo la storia lo storytelling in parola che come ben sai è una parola nuova una parola nuovissima non ne parla nessuno mai sentita story key story swelling però è esatto però è una parola che determina una tendenza ha determinato perlomeno una tendenza e una necessità di raccontare quindi spiegare un po' di più dimmi dimmi no pensavo che però le tue foto di food soprattutto quelle sul sito che ho guardato sono storytellingose sì ma io ci credo prima si chiamava reportage cioè adesso non so chi è che le è venuta in mente sta roba qua ha detto adesso sconvolgo mi sconvolgo tutti con una parola nuova e tutti caspita fa storytelling allora workshop di storytelling bellissimo ma hai sentito parlare di sta roba ma non era altro che reportage cioè raccontare una storia cioè i nostri fotografi diciamo di viaggi di cose hanno fatto quello cioè chi si occupava più di un argomento che più dell'altro ma quello facevano sempre ha fatto solo quello però c'è una diversità tra la foto estetica poi in tutto no? poi in realtà nel senso prettamente solo estetica ecco dalla foto invece di un racconto ed è interessante come anche attraverso il cibo si possa raccontare molto no? non so per esempio ho visto quello della seppia cioè non so ci sono due seppie sono seppie non so perché sono vegetariana quindi non è che sono dei calamari calamari ecco ho sapevo che sbagliavo ecco due calamari la famiglia è quella lì ok sono cugini bene chiesto lì uno di fianco all'altro però dal modo in cui è composta dai colori dalla luce insomma è interessante non è la foto al caramaro così no allora adesso dico una cosa un po' faccio un po' la figa scusalo no no vai vai è arrivato il momento sì sì al 54 poi 54 minuti però si può ecco allora lì ci deve essere secondo me la tua cifra il tuo buon gusto lì non te lo questo non te lo purtroppo insegna nessun workshop non ce n'è di storie è sempre un po' la sommatoria di chi sei quella roba lì della tua famiglia di dove sei è stato da piccolo in vacanza di come tua nonna ti vestiva mi metteva dei vestitini tremendi con dei fiorellini che non potevo andare in giro però mia mamma me li metteva io sono anche un po' quella lì del vestitino di mia nonna quindi il buon gusto e quindi come per risponderti in questo momento seriamente quello che hai detto tu l'estetica quindi attenzione non so se si è bloccata per voi o per me comunque intanto che si è bloccata è interessantissimo questo questa capacità di esprimersi attraverso la fotografia di food io lo trovo parecchio complicato quando all'inizio della mia carriera appunto mi sono interfacciato con la fotografia di food è stato più che altro per appunto in qualche modo rendere bello appetitoso il piatto che avevo davanti quindi mi concentravo sugli ingredienti e su renderli al meglio possibile invece devo dire che mi devo spostare mi devo spostare in un altro luogo dove secondo voi c'è no no ma io sono andato avanti così tra l'altro allora basta allora torno e quindi dicevo appunto che è difficile molto difficile per me è stato però se lo rifacessi adesso forse lo rifarei con un'altra intenzione raccontare il cibo cioè raccontare una storia attraverso il cibo perché io dicevo che quando appunto all'inizio scattavo food l'ho sempre fatto con l'idea di rendere bello e appetitoso la cosa che avevo davanti e non per raccontare una storia di contesto che invece è molto più interessante allora adesso vi cito una cosa che ho detto a a questo workshop che ho fatto per in collaborazione con Sky e Photo Factory Modena che è questa esatto lì avevo a disposizione diciamo tre o quattro giorni non ricordo con cui dare un assignment a questo gruppo di ragazzi che avevano vinto diciamo la l'opportunità di stare con sei grandi fotografi e imparare e stare su approfondire sei ambiti diversi c'era Tori per il retrato c'era Pino Musico il teatro c'era Castella eccetera nel mio caso abbiamo fatto food photography e appunto storytelling e allora quello che io ho cercato di allora premetto una cosa i ragazzi avevano più il sogno di diventare artisti della fotografia più che manuali come sono io della fotografia e quindi diciamo che io ho fatto una lezione parte tonica forse anzi senza forse fa le due cose come me cioè fa progetti artistici ma anche lavoro diciamo commerciale gli altri fotografi fanno quasi tutti i lavori diciamo più nell'ambito della sfera artistica e quindi io a loro ho dato un'infarinata di quello che invece può voler dire avere un assignment in tutti i sensi cioè se tu vai a lavorare per Sports Week ti chiederà cose diverse che Bell'Italia oppure cose diverse che io donna oppure cose diverse ti chiederà un taglio più consono al proprio al proprio piano editoriale eccetera tutto questo per dirvi che anch'io do a loro un assignment sono andati a fotografare al mercato di Modena al mercato mi viene Marinelli ma non si chiama Marinelli comunque vabbè questo non ve lo posso ricordare tutto non me lo posso ricordare Massimo tanto puoi inventare noi annulliamo esatto comunque quello lì è famosissimo a Modena il centro a Modena per cui e dovevano invece fare tre foto quindi quando prima ho detto abbiamo parlato del dittico ma poi vi parlo del trittico qua volevo arrivare no allora loro ovviamente dovevano raccontare una storia di cibo perché quella era la mia materia diciamo no però attraverso tre foto e solo una delle tre foto doveva essere una foto di cibo vera e propria e quindi loro tra l'altro una ragazza ha fatto un bellissimo lavoro su una macelleria lì in questo mercato coperto che è un mercato storico dei primi del novecento di Modena mi viene a Farinelli ma non è Farinelli comunque vabbè e lì c'erano una serie di piccole regole da da seguire per raccontare questa storia allora come ti dicevo prima Maicon allora c'è il contesto cioè tu devi raccontare dove siamo cioè non puoi prescindere perché se appunto come ho detto stai facendo un reportage su che ne so faccio un esempio del genere sugli hamburger prodotti dalle mucche nel Kentucky no bisognerà far capire in qualche modo che non siamo a Modena ma siamo nel Kentucky oppure che siamo a Martha Swinger piuttosto che siamo che ne so in Australia è importante perché chi guarda soprattutto adesso che guardiamo così tanto che abbiamo questa questa over quantity di immagini date da tutti i mezzi sappiamo dai Instagram in avanti eccetera tu hai poco tempo fai swipe swipe di qua di là di su di giù e devi capire molto rapidamente dove sei allora se non lo riesci a dire in una foto sola ma ne hai tre a disposizione uno la dedichi per cercare in qualche modo di raccontare dove sei un'altra e ho detto è un gesto perché dietro al cibo c'è sempre una persona c'è una persona che l'ha costruita una persona che lo ha prodotto una persona che lo ha confezionato una persona che lo ha amato una persona che lo mangerà c'è sempre una persona anche se non lo vedi quindi la presenza umana è sempre dietro lì e quindi è bello che tu riesca in qualche modo ad esprimerla e una è appunto il prodotto finale che può essere più o meno finale può essere mangiato può essere un piatto tutto sbaffato e ci sono solo le briciole eccetera però è meraviglioso perché tu puoi raccontare tantissimo e se ne hai una sola a disposizione quindi come dicevi hai notato nelle mie immagini uno storytelling già nell'immagine da sola allora hai piccoli elementi che ti aiutano a dire dove sei chi c'è dietro non lo so adesso banalizzo al massimo un cibo asiatico avrà i bastoncini e tu vai subito da quella parte del mondo oppure comunque in un territorio già più di melting diverso e poi ci sono appunto i dettagli a me piacciono le cose cadute mi piace un po' questa sensazione di compostezza ma anche di un po' di casualità della cosa che è caduta un po' la giapponese la foglia non la foglia il petalo del sakura che cade cade lì è caduto lì e lì è meraviglioso dove è caduto guarda credimi quando fai cadere qualcosa se la fai cadere in modo il più vicino alla realtà possibile sarà meraviglioso non c'è dubbio perché la natura già si impone così e Fruc cadrà dalla parte giusta non so se sono riuscita a spiegare tra l'altro Mirko Salvadori dice mercato albinelli albinelli bravissimo albinelli ma li hai visti come sono svegli bravi c'era un elli albinelli bravo Mirko i migliori i migliori quindi in quel workshop alla fine poi è carino perché l'avete anche registrato ed è anche online su youtube vero? è online su youtube l'abbiamo fatto qualche anno fa però è rimasto assolutamente visibile allora vi direi che la mia lezione ovviamente se vi è piaciuta questa potrebbe piacervi anche quella non guardate come sono pettinata perché l'ho pettinata malissimo faceva molto caldo è una roba orrenda per cui non guardate come l'ho pettinata anche adesso dopo tre mesi di quarantena meno male che ho la cuffia di mio figlio ma sono molto interessanti anche le altre le altre lezioni come dicevo c'era appunto Toni che ha fatto un lavoro sul retrato molto bello ha messo i ragazzi in relazione col soggetto li ha buttati nell'arena proprio e quindi hanno avuto delle emozioni anche molto forti io li ho bacchettati ho fatto la Rottermeier della situazione comunque per loro credo sia stata un'esperienza bellissima c'è anche il lavoro con Musio con Castella Monteleone cioè hanno fatto veramente un bellissimo lavoro ed è assolutamente recuperabile su youtube poi metto il link in descrizione o se volete aspetta ve lo metto anche già qua guarda cosa sono mamma mia che professionista glielo ho messo in chat Salvo Gravano dice in tempi di reclusione forzata sto provando a studiare l'uso della luce flash insieme alla luce naturale queste pillole sono un nutrimento pure per sperimentare in casa cose nuove grazie salvo grazie a te ricordati se devi cosa che non ho detto prima ma fondamentale lavorare in luce mista devi lavorare con il cavalletto non puoi farlo a mano perché sennò non puoi aprire scusami tenere tempi tali che ti permettano di miscelare la luce quindi usare sia quella dell'ambiente che quella che metti tu quindi fondamentale il cavalletto questo perché tanto sei preoccupato dell'inquadratura una volta per tutte quella l'hai fatta e boh e poi cominci a modulare più luce naturale meno luce naturale più luce flash meno luce flash fai un po' di esperimenti il problema più grande non è i due colori delle luci diverse no no perché se fai no beh oddio dipende come come metti la luce come metti la luce flash cioè quella deve avere una copertura tale per cui fa e crea una certa pulizia infatti infatti è vero tutto quello che io vi ho detto che la luce così mi permette stabilità mi permette di fotografare dalla mattina alla sera sempre sulla stessa finestra con la luce che cambia eccetera eccetera però è anche vero che quando la luce se n'è andata quella fuori la foto che a quel punto rimane orfana dalla luce fuori da solo la luce flash vi assicuro è diversa gli manca è come se fosse più dura non so dirvi ogni volta dico basta e abbiamo finito non si fotografa più però la foto c'è e uno dice vabbè quella è la diversità invece sì perché io vedo qualcosa diventa livida effettivamente quello che dici tu è corretto cioè le luci hanno temperature diverse ed effettivamente questa miscellanea tu la devi creare in un certo modo infatti vi ricordo che la luce in un caso l'abbiamo mandata a fare un lavoro di rimando non dobbiamo avere le doppie ombre cioè non possiamo avere l'ombra del fuori con l'ombra e fa quella roba tremenda che si incrocia fa tipo calciatori in serie A esatto quella roba lì no 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 Lorenzo chiede non ho ben capito il fatto del flash fuori dalla finestra come viene messo fuori dalla finestra io non so se posso farvelo vedere però magari sì ok allora se lo fai vedere dobbiamo raccontarlo alla gente che ascolterà il podcast allora adesso sto mostrando la mia finestra ok ok però in questo caso da questa finestra vedete c'è un tetto sotto non so se si riesce a vedere si vede si vede si vede allora nell'altra finestra questo tetto non c'è e quindi io dal piano di sotto metto un cavalletto alto 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 che arriva fino a questa finestra non so se si è capito anche se chi non vedrà l'immagine esatto ma visto che adesso non posso perché non ho abbastanza filo andare nell'altra immagine nell'altra stanza però anche fuori dalla finestra io lavoro con la luce indiretta quindi che fa il rimbalzo perché c'è una tenda fuori perché c'è una specie di porticato diciamo ecco quindi in questo porticato la luce la luce viene viene posizionata in modo tale da ritornare dentro la finestra chiaro ok tu metti una sì praticamente metti una una tela in parallelo alla finestra spari il flash contro la tenda la tenda rimbalza dentro esattamente esattamente se quadrassi la finestra vedrei non vedrei il panorama fuori ma vedrei una tenda e un flash però siccome non è tutto chiuso e comunque la luce continua a girare fa le sue cose eccetera io comunque quella luce del naturale la continuo a raccogliere capito certo è chiarissimo peraltro ti ringrazio anche Lorenzo dice ora è chiarissimo grazie mille grazie Francesca per quanto riguarda invece il discorso di food photography hai vinto anche il primo premio internazionale giusto al food photography è stato bellissimo ragazzi è stato meraviglioso è stato meraviglioso io non mi ricordo perché ho partecipato a questo contest non mi ricordo assolutamente dovrei pensarci ma adesso perdo troppo tempo a ricordare quindi non so perché fatto sta che partecipo a questo contest e questo un po' di anni fa no beh neanche tanti nel 2017 non così tanti anni fa e e gli mando dei dittici appunto torniamo sempre a questa a questo modo di parlare posso chiederti una cosa riguarda i dittici prego quando mandi dittici tu li mandi impaginati già come li vedi è un file sì è un file è un file con due foto un file con due foto perché sennò te le conteggiano due e sennò rischi che loro li spaino esatto esatto e poi magari io credo anche la proporzione a volte fa la differenza no? se decidi che vuoi io monto o a immagini accostate al vivo per intenderci oppure a volte c'è un filo o bianco o nero a seconda ma ci sono dei momenti storici in cui è una di queste tre cose non è che uno è migliore dell'altro che mi stufo però insomma c'è un filino e arriva un file unico infatti adesso ho appena fatto un ho partecipato a un altro contest dove ho mandato un'unica foto si chiama bread bread come pane revelation rivelazione del pane dove c'è un ritratto da una parte e un pane dall'altra ed è un unico file cioè diciamo l'opera si compone di queste una figura umana è un un pagnottone diciamo adesso detta così bruttissima foto ma in realtà è bella molto bella e quindi è uno solo e in quel caso feci la stessa cosa gli mandai il massimo erano dieci foto però io gli ho mandato venti alla fine capisci in questo modo e niente erano dei ritratti di chef molto se vuoi istituzionali un po' come la foto che hai messo che ti ho mandato io per aprire questa questa chiacchierata e di fianco ci sono i piatti visti molto molto da vicino di questi chef e evidentemente questa cosa piace molto per cui vinsi ma la cosa meravigliosa che io ricordo con una tenerezza incredibile è che questa cosa è avvenuta a Tarragona Tarragona è un luogo della Spagna è un luogo della Spagna è un posto carino ma normale e quindi sono stata lì e siccome sono andata appunto da sola ma ci sono andata con mio figlio che era piccolino all'epoca scusami sono un po' persa siamo andati io e mio figlio che era piccolino appunto e quindi avevano fatto giri sono andati in spiaggia cioè siamo andati abbiamo preso questa cosa come una vacanza cioè tutti ah che belle foto c'erano delle mostre siamo andati a vedere le mostre ah ma che bello che bello cioè l'ultima l'ultima cosa che pensavo era di vincere ma l'ultima quindi vabbè che bello che non bello complimenti eccetera finalmente arriva la sera della premiazione sera della premiazione tutti vestiti bene mio figlio con il giacchino bambino grande così con la giacchina tutti a posto andiamo ci sediamo e c'erano ogni sera era molto bello perché in questa piazza un po' appunto spagnoleggiante con una una un allure un po' medievale c'era una proiezione delle immagini varie immagini sia in mostra che anche di colleghi che non avevano non avevano avuto come dire chance di esporre ma avevano appunto avuto quella di avere questa specie di slide show quindi a un certo punto arriva il sul palco questa signorina che dice adesso daremo la premiazione nel frattempo mio figlio si addormenta quindi io mamma mamma vedete qua così questo bambino in braccio così sola io non ero io amo io lui così basta avevo della gente di qua della gente di là e questo bambino così allora questa qua dice allora adesso vi darei il terzo premio secondo premio e adesso primo premio ma la cosa che vi sto raccontando meravigliosa che questa ha detto and the winner is cioè come ha detto and the winner is ha detto il mio nome io questo bambino così ho preso il bambino l'ho messo in braccio questo quale mi piace io l'ho dato in mano ho detto scusa I'm sorry I'm sorry bam io l'ho dato sul bambino e sono andata sul palco ma non me l'aspettavo non mi ero preparata una frase una roba in inglese né niente poi dopo ho pensato fischia mamma ho lasciato il bambino quella là che non so chi è e niente quella lì col bambino sempre che dormiva poi me l'ha riportato non posso dimenticarmi questa cosa è stato molto bello e ho vinto coi dittici però ecco questo ve lo dico perché in qualche modo sono contenta che questa modalità diciamo di raccontare appunto abbia abbia preso un po' il suo spazio in un certo senso capito? certo meraviglioso bellissimo tra l'altro mi leggo anche un punto della tua scaletta no? che è l'ultimo in realtà dice costruire il proprio mondo la cifra stilistica e il gusto e che la tua cifra stilistica è costruita anche un po' intorno a Dittico no? o comunque la relazione tra più foto assolutamente allora diciamo che in qualche modo per me è anche per esempio vi faccio un esempio quando lavoro per l'editoria per esempio io ho una collaborazione stabile da un po' di anni con sale e pepe e da tanti anni faccio questo servizio centrale che si chiama il tema del mese la redazione sceglie appunto un tema e vengono fatte di solito sei foto ma poi ci sono tutta una serie di foto correllate che c'è un'apertura eccetera eccetera per me è imprescindibile mentre lavoro costruigli di fianco la sorella della foto cioè se tu fotografi che ne so una foto in pianta e la foto di fianco la fai ancora in pianta e decidi che quelle sono due sorelle vanno insieme presumibilmente tutto il servizio andrà in pianta oppure devi già in qualche modo costruirti graficamente la cosa oppure ne avrai due non in pianta ma strane due foto non in pianta vicine e altre due in pianta oppure no oppure una in pianta una di tre quarti allora questo ritmo lo devi costruire a monte e tante volte quando tu questa cosa la fai e poi mandi le foto sciolte spesso le foto vengono montate come tu le hai concepite perché è quella sorta di dialogo tra le immagini che tu costruisci mano a mano che le rende sorelle e quindi ancora una volta ditti che ancora una volta si parlano tra di loro per punti di vista per accostamenti cromatici per posizioni degli oggetti per cui non so non devi magari avere due due cose esterne alla pagina in modo speculare perché sembra strano allora sposti la posizione ma lo fai aiutato dal fatto che di fianco hai fatto la prima immagine e questa prima immagine ti guida sulle altre oppure vabbè più semplicemente decidi che fai sei foto in pianta è più semplice però fino a un certo punto perché appunto se hai due ciotoline nella pianta che si baciano fai due occhietti non stanno bene vicini quando le impagini no? tra l'altro vai 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 no 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 vai no dico è interessantissimo questa cosa del dittico perché in realtà cioè ti porta a un approccio che è completamente diverso alla fotografia perché quando tu ricerchi la sola fotografia stai facendo un lavoro quando invece ricerchi una fotografia che stia bene con un'altra è un altro allora guarda io sono d'accordissimo con te e a me piace di pensare di fare questo altro lavoro che a volte è fatto dopo cioè io a volte questo lo faccio anche tanto con il mio socio che ha un occhio un po' più distaccato perché a scattare sono io e quindi i figli sono miei non suoi lui li maltratta molto più di me ed è molto più bravo di me a fare il foto editor di me stessa no ma mi sono persa ma dicevi che è molto più bravo a fotografare di te stessa no è molto più bravo a fare il foto editor di quanto lo sia io e tante volte facciamo abbinamenti di foto anche di ere diverse che però hanno improvvisamente un qualcosa da dirsi e quella foto lì che magari era una foto del 1902 e che tu avevi un po' dimenticato basta vabbè bellissima basta però non è che possiamo continuare ad usarla improvvisamente gli metti di fianco un'altra cosa e tutto cambia è molto interessante e poi è molto bella questa cosa che vai vicino vai lontano metti vicino due campi completamente diversi il microcosmo il macrocosmo il dettaglio il macro con il campo lungo è molto bello allora se dovessi adesso tu devi però chiedermelo a un certo punto tu devi dire qual è il libro che consigli io mi sono preparata tu le devi dire alla fine sono le tre domande finali quindi tra due ore te le faccio non lo puoi non lo puoi dire adesso così io dico una cosa su questo libro no qual è il tuo libro preferito grazie grazie avevo una domanda così che mi passava in testa in questo momento grazie allora il mio libro è la camera chiara di Roland Barthes nel senso che tutti voi che ascoltate e volete saperne di più questo libro dovete averlo letto se l'avete tutti letto meglio perché quello che vi sto per dire lo sapete già e cioè lui dice ci sono due cose fondamentali che ci devono essere in un'immagine lo studium e il punctum che cos'è lo studium lo studium è l'informazione che la foto ti dà non so esempio una foto di gente che vendemmia in Francia allora tu capisci che sono in Francia perché hanno la magliettina riga e il baschetto invento sto inventando una roba così per dire che stanno facendo la vendemmia perché tagliano tutti i tralci dell'uva e c'è il trattore eccetera eccetera tu dici ah guarda che bella scena di vendemmia in Francia è quello lo studium il punctum non è detto che ci sia in tutte le foto lo studium sì perché sono le informazioni che l'immagine stessa porta di per sé il punctum è invece qualcosa che ti ferisce l'occhio che tu improvvisamente guardi e dici questa cosa mi rimarrà dentro che è lo sguardo di qualcuno è un gesto un dettaglio è una qualsiasi cosa che colpisce ti colpisce colpisce te e non un altro col dittico questa cosa la puoi fare più facilmente perché una foto che abbia tutte e due cioè che abbia questo punctum è un po' più difficile da fare se invece le fai e le metti insieme un po' riesci ad assolvere alla lezione di Bart con due immagini non so se mi sono spiegato oh sì 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 ti sei spiegata benissimo già tre volte mi sono spiegata bene beh così no perché no perché effettivamente trovare in una fotografia entrambe le cose è più difficoltoso e invece avvicinandone due può essere più semplice ma la cosa davvero interessante e era questa la riflessione che stavo facendo è che tu puoi prendere due foto completamente scollegate e dare loro un nuovo senso e questo è bellissimo è un lavoro molto molto bello ma senti questo no dimmi scusami no 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 dicevo che questo è un lavoro anche che fai se costruisci una mostra no cioè la successione delle immagini quando tu le metti sul muro per intenderci non è casuale perché inevitabilmente tu che guardi passi da un'immagine all'altra e quindi l'immagine prima in qualche modo deve essere viatico per quella successiva ci deve condurre a quella dopo e poi ci deve condurre a quella dopo allora in qualche modo nel dittico è lo stesso una ti conduce all'altra se poi l'altra ti può ricondurre all'altra ancora è perfetto fai un otto totale bellissimo e questo gioco anche di campi no appunto prima dicevamo macrocosmo microcosmo ti ha influenzata anche quando poi hai fatto un passaggio nel video come te l'ho servita bene sì molto devo dire allora direi di sì anzi anzi molto cinematografico come linguaggio questo ma questo l'ho capito dopo perché nella mia vita ad un certo punto è successo che un produttore io non avevo fatto un video in vita mia nonostante amassi il cinema perdutamente e amo ancora il cinema perdutamente questo produttore mi ha chiamato mi ha detto vorresti fare dei video per noi e gli ho detto ma non sono neanche niente zero ah non importa non importa a me la parte tecnica non interessa ma interessa che tu ci metta appunto la tua cifra stilistica che tu ci metta il tuo gusto che tu ci metta il tuo approccio eccetera bene ho raccolto la sfida e infatti ho fatto delle cose molte cose commerciali più o meno interessanti e anche alcune cose non commerciali devo dire carine ma per rispondere alla tua domanda questo è ancora di più nel linguaggio del cinema dove tu hai questo respiro magari molto ampio e poi improvvisamente un dettaglio l'occhio cioè per esempio c'è la scena di entrata di film blu di Chieslowski dove si vede l'occhio di lei sbarrato ed in questo occhio si vede riflesso lui è un dettaglio quasi quasi claustrofobico perché non vedi neanche l'occhio vedi parte dell'occhio proprio solo la parte dell'irida nel quale si riflette la figura di lui che ha il suo cappezale eccetera e poi da lì parte il film e si aprono le scene ma si aprono davvero per cui questo è molto cinematografico quindi in un certo senso mi sono predetta mi sono prevista sì quindi sì non sono assolutamente così formata come direttore come director come fotografa dovevo essere onesta però riverso dentro lì dentro quel contenitore tutta una serie di cose quindi ho capito che se tu hai una tua visione poi tutta la parte tecnica c'è qualcun altro che la può assolvere tranquillamente non è necessario che assolvi tu a quella cosa poi nelle produzioni video ci sono tante persone che lavorano ognuno ha la sua funzione quindi fai direzione in un certo senso cioè fai in modo che la tua idea sia interpretata correttamente quindi io all'inizio venivo sgridata perché facevo il lavoro del macchinista andavo io no metto io questo fischio la macchinista mi odiava no dovevi mettere il macchinista va bene allora ho capito questa roba allora dicevo voglio che questa cosa cada così e faccia così allora il macchinista contento di assolvere il suo compito di cosa andava lì faceva cadere la cosa in un certo modo eccetera eccetera quindi è un lavoro diverso perché è un lavoro dove tu dirigi però se sai quello che vuoi o perlomeno se cerchi quel tipo di armonia che è la tua la tua visione il tuo gusto il tuo modo è molto semplice perché tu se tutti fanno bene il loro lavoro tu non devi fare altro che dire che cosa devono fare ma loro lo sanno già fare non so se mi rendo cioè non devi fare tu il montaggio però tu gli devi dire stacca qui tu devi avere la tua visione e loro poi fanno la manovalanza di quella visione fisicamente lo fanno loro montare è un lavoro meraviglioso è un lavoro meraviglioso il montaggio è incredibile è un'altra cosa che ti dà la possibilità di reinventare un contenuto assolutamente ho fatto mi è capitato di fare dei video magari con degli amici ma proprio che sono stati caricati anche qua su youtube stessa identica giornata diciamo non abbia ripreso le stesse identiche cose avrebbe ripreso magari il flusso della giornata ma il contesto era lo stesso le persone le stesse i racconti erano lo stesso ma poi il modo di raccontarlo attraverso il montaggio era completamente diverso cioè tu vedevi il suo video vedevi il mio ed erano due mondi contrapposti ed è incredibile quanto poi anche la tua personalità traspaia dal montaggio no? perché puoi mettere ah troppo bello e è molto bello tu lo sapevi mi è stato detto recentemente che tra le più brave montatrici mondiali ci sono le donne non lo sapevo è una pare me l'han detto da poco pare che le donne abbiano una grande come dire mi viene da dire affinità o comunque propensione o non lo so comunque è così così un dato che ma è interessante tra l'altro lavoro estremamente meticoloso e lungo montaggio molto sì Enrico chiede buonasera vorrei chiedere è possibile scattare liberamente poi successivamente abbinare le immagini dando loro un corpus unico allora sì nel senso che quello che dicevo prima se tu sei l'autore di un'immagine già tu di per sé fai una scelta quello che si diceva prima del video della prova con la con la like no con la laica con la roll che ha fatto Pasquale anzi Michael con Pasquale lì loro scattano e improvvisamente tuff viene a fare un'immagine che non è quella che avrei potuto fare io non è quella che sicuramente avrei fatto tu avresti potuto fare tu e quindi dentro quell'immagine c'è già un po' di te stesso anzi senza ci sei tu dentro quell'immagine lì quindi se tu vai a ripescare un'immagine che hai fatto un anno prima il giorno prima x nel passato e la metti insieme c'è sempre un dialogo perché sei tu l'autore il trait d'union sei tu e se queste immagini poi tra di loro hanno c'è la stessa mano ecco questa è la cosa fondamentale quando per esempio lavori per l'editoria ma non solo tante volte dicono ah no qua bisogna cambiare mano cosa vuol dire vuol dire che cambi professionista perché sullo stesso soggetto quel professionista ci metterà qualcos'altro certo ecco allora scusa il trait d'union sei tu e quindi la foto dell'altro ieri la foto di domani le hai sempre fatte tu se loro hanno qualcosa da dirsi hanno già un tappeto comune che è quello della tua mano e quindi già stanno bene insieme perché le hai fatte tu poi dopo le studi perché si possano parlare tra di loro allora per cromatismi per forme per pieno e vuoto una è molto vuota l'altra è molto piena e allora già succedono delle cose assenza e presenza appunto vicino e lontano oppure due vicini perché uno specchio qualcosa che si che si parla in modo speculare dentro e fuori cioè ci sono tantissime tantissimi mezzi questi sono molto semplici poi ci sono anche quelli invece più intellettuali magari no che è quello che si diceva cioè i piani più stratificati un po' più intellettuali un po' con strumenti un po' più così culturali sofisticati se no anche questi che ho appena detto che sono molto semplici ci stanno che ne so tu a sinistra c'hai un uovo al tegamino uovo al tegamino sono arancioni e di là hai non so io un ragazzo con una camicia gialla per dire allora comincia a dire chissà se quel ragazzo con la camicia gialla è quello che andrà a mangiarsi le uovo al tegamino o è quello che li ha cucinati esatto non importa poi non importa quello che ti suscita è già è già è già bello è già storia è già no certo assolutamente e voglio chiudere con questa domanda prima delle tre domande anzi due domande perché una abbiamo già non abbiamo fatto tre ore ragazzi solo una e mezza solo una e mezza solo una e mezza che però è la domanda un po' più difficile di tutte no visto che nella tua scletta c'era puntato questa cosa dello stile della ricerca è l'ultimo punto allora ti chiedo come quali consigli daresti a un giovine ragazzo che si sta approcciando alla fotografia per trovare appunto il suo stile che è sempre questa cosa che tantissimi dicono ah ma come farò a trovare il mio stile ah mi piacerebbe essere distinguibile in qualche modo avere il mio modo il mio approccio ecco come benissimo ho la risposta allora in realtà tu ce l'hai già quella roba dentro di te non è che te la devi fare tu ce l'hai già quando vai al mercatino delle pulci e nella bancarella degli indiani ti compri un anello comprerai l'anello del tuo gusto del tuo stile quindi tu devi fare un lavoro su di te per riconoscere quello che dentro di te probabilmente c'è già che è frutto di quello che hai vissuto quello che hai studiato la mamma che hai avuto il papà che hai avuto i fratelli che hai o non hai avuto eccetera eccetera i viaggi che hai fatto tu sei già quelle cose lì anche magari molto molto all'inizio perché c'hai vent'anni hai fatto vent'anni di vita di esperienze non 70 e quindi è un gusto ancora un po' in formazione quindi quello che tu devi fare è guardarti guardare quello che scegli guardare quello che che fai come ti vesti perché metti un colore con un altro e quello sei un po' tu no? ti metti sempre di nero allora io sono un po' quella roba lì che non è assoluta eh attenzione io mi sono vestita di nero per tantissimo tempo adesso casualmente ho una camicia nera e vai perché mi volevo mettere in pinpan con Michael ma di solito non lo metto quasi più ehm perché adesso invece prediligo molto di più il colore però quando io mi investivo così tanto 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 di nero facevo delle foto tanto 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 colorate per esempio perché evidentemente non volevo essere distratta su di me da certi segnali ma quelli segnali li andavo a cercare da un'altra parte questa cosa qua l'ho notata poi nel tempo e quando io ho abbandonato questa sorta di uniforme che un po' mi proteggeva un po' mi anonimizzava mi faceva un po' mi nascondeva ma poi invece i colori hanno cominciato ad abbandonare cioè a stemperarsi un po' sono più delicati sono meno aggressivi sono più eh così polverosi i colori che piacciono a me adesso per cui è chiaro che è una domanda tra bocchetto questa caro Michael perché c'è una ricetta per questo però secondo me è guardarsi dentro è guardare perché un film ti piace più di un altro cioè che cos'è che ti è piaciuto che linguaggio ti è piaciuto di più ti piace di più Tarantino che ha quel modo di accostare i colori di 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 questi ambienti di un certo tipo eccetera o ti piacciono di più invece certe altre atmosfere più rarefatte meno così un po' più metalliche di altri film allora anche lì capisci no un po' quali sono le tue e qui pian pianino mentre ti chiarisci un po' queste cose le cominci a a tenere da parte e poi ti si ripropongono poi devi un po' ti devi un po' concentrare le devi vedere le devi riconoscere ecco ti devi un po' riconoscere chi sei certo che poi è assurdo come questo lavoro sia difficilissimo non solo nella ricerca fotografica di uno stile fotografico no proprio anche a volte nel definirsi no uno fa fatica a definirsi però invece agli occhi degli altri è palese quello che è no è lui che si deve rivelare a se stesso in qualche modo che è poi la cosa più più complicata no però quando sei allineato ecco io lo dico sempre di tutti i fotografi che ho intervistato tutti quelli che comunque hanno una carriera hanno avuto successo che poi per ognuno il successo è qualcosa di diverso però diciamo ecco successo secondo la loro visione di successo ok erano quelle persone che in qualche modo erano molto centrate su se stesse cioè che avevano trovato il loro modo di esprimersi avevano trovato la loro filosofia della fotografia in qualche modo e su questa poi hanno costruito una carriera ed è fantastico questo però ti faccio notare che tu hai usato un termine che è trovato questo trovato è qua non è qua è dentro di te questo trovato tu vai a trovare quella roba lì gli altri come dicevi tu vedono fuori delle cose che però tu non vedi nello stesso modo quindi sei tu che ti devi guardare dentro e costruirti un po' questa specie di piccolo archivio di cose che ti piacciono che sono nelle quali ti riconosci ti piacciono fondamentalmente ti ci trovi bene ti ci trovi a tuo agio ecco interessantissimo Francesca ti ringrazio è stata una bellissima giornata passata insieme davvero meravigliosa e di solito sai che io concludo con tre domande ma oggi concluderò con due domande perché una l'abbiamo già svelata due domande due sono due allora il libro la camera chiara poi seconda domanda metti le cuffie così per i suggerimenti a casa un film che consiglieresti mi viene l'ultimo che ho visto ragazzi perché l'ultimo che ho visto ho visto un film bellissimo è un documentario si chiama La scomparsa di mia madre è l'omaggio che fa Beniamino Barrese a sua madre Benedetta Barzini e l'ho trovato bello bello fatto bene non è malinconico non è struggente non è scontato e soprattutto quello che mi ha colpito che io non l'avrei fatto assolutamente così non l'avrei fatto assolutamente così lui fa delle cose che non avrei mai fatto e questo oggi mi colpisce molto è un modo di fare un film perché è un po' una via di mezzo tra un film e un documentario ma è un modo di trattare l'argomento bellissimo però siccome io in realtà avevo diritto a tre domande adesso tre domande dico due film e l'altro ah no forse invece no non è vero perché forse è la prossima domanda allora no so zitta ah ok ok la prossima domanda la prossima domanda è un oggetto sotto i dieci euro se no va poi lo dico lo stesso un oggetto sotto i dieci euro allora no allora no rewind è un'altra cosa che dovete vedere una serie tv ok vai molto molto interessante dal punto di vista visivo veramente che è un orthodox che è una miniserie di quattro io odio le serie perché mi mando angoscia quindi queste ha solo quattro per cui le vedi tutte e quattro cioè stai il pomeriggio te le vedi ciao così non sai l'ansia di andare a casa esatto ed è molto bello veramente molto bello basta ok ripetimi il nome un orthodox ed è la storia non è la storia è tratta da una storia vera di una ragazza che scappa ad oggi per cui sto parlando di New York tempo attuale che scappa da questa comunità chassidica quindi di ebrei chassidici di Williamsburg a New York lei scappa non vi dico altro molto bello molto bello ma visivamente stupendo esatto poi a me piace un sacco le storie tratte da una storia vera cioè i film tratti della nostra storia vera bellissima storia vera e poi l'ultimo invece un oggetto sotto i 10 euro che può tornare utile a un fotografo allora non mi sono preparata per niente questa cosa però vi dico la prima cosa che mi è venuta in mente la prima il gel utilizzante per le mani beh in effetti in questo periodo cosa meglio di quello cosa meglio di quello quindi vale vale il primo che viene in mente sicuramente costa meno di 10 euro anche se in certi momenti non è costato anche di più si è vero vale ok va bene Francesca io ti ringrazio la chat io ringrazio te guarda grazie mille spero che non sia stato noioso ci ho messo tutta l'energia che ho potuto perché non fosse noioso di non dire sempre stesse cose e ripetere sempre stesse cose eccetera eccetera quindi io ringrazio te spero che questo sia stato così guarda salvo dice bellissimo convivimo anche questa sera ma cosa lo dico a fare grazie 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 infinite grazie davvero molto bella grazie grazie insomma insomma ti ringrazio ma che carino ti ringrazio davvero dal cuore aspetta c'è questo già seguivo Moschini ma questa intervista mi ha fatto apprezzare ancora di più anche per la sua simpatia oh vai ciao palì e porta c'è esatto vabbè in saccoccia esatto ti mando un abbraccio grande grazie anche a te grazie mille magari poi ci vediamo io e te e Enzo facciamo una peritivo insieme molto volentieri quando sarà possibile ma spero trarò molto esatto ti mando un abbraccio davvero grande ciao a tutta la chat ciao a tutti ciao a domani ciao 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 a tutti ciao a tutti